Grazie a tutti Grazie a tutti A tutti i corridori Voglio riguardarvi una cosa molto importante La pedalata d'autunno non è competitiva Quindi di conseguenza bisogna rispettare il codice stradale Essendo una forza non competitiva bisogna rispettare il codice stradale Grazie La partenza verrà prima del giro, quelli che fanno il giro grande Poi di conseguenza quello del giro piccolo con i bambini Grazie a tutti Allora ripeto ancora La gara non è competitiva Quindi di conseguenza alla fine ci saranno distribuzioni di premi a sorteio D'accordo? Gara non competitiva Volevo inoltre ricordare che il percorso è segnalato con frecce, nastro, selle, Italia e bianco e rosso Quindi il percorso è tutto segnalato con frecce, nastro, selle, Italia e bianco e rosso Grazie a tutti Grazie a tutti